Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e vi porto un after patch del glitch dei soldi che c'era qualche giorno fa Allora questo glitch funziona praticamente come funzionava ieri e come funzionava l'altro ieri Ma è il primo passaggio quello che cambia ragazzi Quindi fate bene attenzione che cosa dovete fare Allora in primis salite in macchina Premete il tasso PS Quando siete nell'auto Andate su amici Una volta che siete su amici Selezionate un amico che sta giocando a GTA Schiacciate l'icona GTA E fate partecipa Dopodiché vi arriverà un messaggio E non dovrete accettarlo La prima volta non dovrete accettare questo messaggio La seconda volta quando andate a ripetere questo glitch ragazzi Dovete fare lo stesso passaggio che adesso andremo a fare insieme Quindi andiamo amici Schiacciamo l'amico che sta giocando a GTA il profilo Andiamo su GTA partecipa E nel frattempo pigiamo tante volte R2 ragazzi Spammiamo R2 quando ci arriva questo messaggio Lo schiacciamo come prima E una volta schiacciato questo messaggio ragazzi Se tutto è andato bene dovremmo avere l'auto duplicata Infatti abbiamo l'auto duplicata ragazzi Una volta fatto questo passaggio Il resto del glitch è esattamente come prima ragazzi Fate attenzione che il glitch è sempre più difficile Rispetto a quello di ieri è ancora più difficile Però è fattibile ragazzi Chi ha voglia veramente di fare qualche soldo Questo glitch lo fa senza nessun problema Una volta che avete fatto il tutto ragazzi L'unica cosa che dovete fare è ricomprare il modulo del centro operativo mobile Comprare l'officina E rifare tutto quanto il glitch ragazzi Come si faceva prima Né di più né di meno Fidatevi questo glitch funziona E' un ottimo after patch Non me cagate il cassa di non funziona Dopo mezzo secondo che l'ho pubblicato Sbattete la testa al muro se non ci riuscite Il glitch funziona benissimo Intanto vedo di cercare qualcosa di più semplice Però questo è il primo after patch ragazzi Non credo che nessun altro l'abbia portato Detto questo Un saluto a tutti ragazzi Approfittate fino a che potete di questo glitch Di questo after patch che vi ho appena portato Un saluto a tutti di nuovo E al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti